Sono 57 i nuovi casi di persone e risultate positive al covid-19 nella provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare. Nel dettaglio 21 pazienti sono di Caltanissetta, 14 di Gela, 8 di Niscemi, 6 di Milena, 4 di Mussomeli, 2 di San Cataldo, 1 di Campofranco e 1 di Montedoro. In degenza ordinaria sono attualmente ricoverati un paziente di San Cataldo, 1 di Caltanissetta e 1 di Butera. Si è registrato anche il decesso di un paziente proveniente da fuori provincia. Sono 32 i pazienti di Gela che risultano guariti, 26 invece i guariti a Caltanissetta, 8 a Niscemi, 7 a San Cataldo, 3 a Mussomeli, 2 a Delia, Santa Caterina e Sommatino, 1 a Riesi, Serra di Falco e Vallelunga.